Sarebbe inodore di mafia. A sollevare il sospetto sulle SIEA, l'ente di scuola edile di Villa Seta, costituito nel 1983 grazie alla collaborazione congiunta di sigle sindacali e imprenditori edili, è una informativa antimafia, firmata dal prefetto di Agrigento, Francesca Ferrantino, e finita sul tavolo dell'assessore regionale alla formazione professionale, l'agrigentina Nelliscilabra. Nella nota si denuncia il rischio di infiltrazioni mafiose. Da qui l'immediato stop all'accreditamento di un finanziamento previsto nell'avviso vendi del Fondo Sociale Europeo di 400 mila euro, già pronto per essere erogato. Nell'informativa si parla di parentele tra i rappresentanti dell'ente e personaggi noti agli inquirenti. La presunta infiltrazione riguarda un solo episodio che, secondo gli addetti ai lavori, non deve essere enfatizzato ma neppure sottovalutato. Gli inquirenti da parte loro langiano l'allarme per il fatto che la mafia avrebbe fiutato l'affare della formazione, un settore che garantisce risorse economiche e soprattutto controllo sociale attraverso la gestione di posti di lavoro. Ho acquisito l'informativa rilasciata dalla prefettura di Agrigento, sottolinea Nelliscilabra, dalla quale emergono rischi di condizionamento mafioso nei confronti dell'Ende, con il quale l'assessorato ha in corso un rapporto contrattuale. Chi rappresenta un'istituzione non può avere dubbi di fronte a casi di questo tipo, ha proseguito, sottolineando come il governo Crocetta abbia aperto una nuova fase. La regione ha continuato non può avere rapporti di alcun tipo con soggetti che non siano impermeabili, in modo assoluto e chiaro da infiltrazioni mafiose. Ed ha concluso l'Ascilabra, annunciando di avere dato al dirigente generale del Dipartimento precise indicazioni per garantire il posto di lavoro ai dipendenti dell'ESIEA. Dall'ESIEA, preseduto da Angelo Barbarino e diretto dall'ex sindacalista Maglio Cardella, nessuna replica ufficiale. Da quasi un trentennio la scuola edile di Villaseta rappresenta un punto di riferimento nel campo della formazione, ma anche per la sicurezza sui posti di lavoro. Numerosi i corsi di formazione organizzati, gli stage, ma anche i protocolli di intesa e di collaborazione con varie istituzioni legate al mondo del lavoro e in particolare nel settore dell'edilizia. Adesso l'informativa antimafia che rischia di paralizzare tutte le attività. Insomma, non c'è pace per l'avviso Vendi, il megabando della formazione siciliana che per la prima volta è passata a carico dell'Europa, dopo oltre trent'anni di contributi regionali determinati dalla legge 24.